Sandro Bardaro. Quando il pesce puzza dalla testa. Le teste dei pesci più lunghi di questa lapide fino alle prime pinne comprese devono essere date ai conservatori. Forse non tutti sanno che una volta, il tevere abbondava di storioni. Sti poracci facevano un sacco di strada da vivi ma, una volta pescati e belli morti, per loro non era finita lì. Dopo aver fatto una fatica tremenda per risalire il tevere, tac, veniva beccato dai pescatori e cominciava così un altro lungo ed estenuante viaggio. Anche da morto, lo storione non aveva vita facile, nemmeno fiscalmente, eee, non per nulla siamo a Roma. A partire dal 300, i conservatori, cioè i magistrati comunali, diventarono anche i responsabili del pesce venduto in città. E va bene. Piccolo particolare, per legge, si dovevano consegnare le teste dei pesci che superavano una determinata misura. La misura, guarda caso, era proprio quella di uno storione un po' grande e per essere precisi, sul finire del 500 in Campidoglio e dal mercato di Portico d'Ottavia, dal medioevo mercato del pesce di Roma. Comparvero delle targhe con il basso rilievo di uno storione, che doveva servire come misura di riferimento. Quindi, lo storione si faceva un mazzo tanto per risalire il tevere, veniva beccato dai pescatori che poi lo portavano al mercato ma, prima di consegnarlo al pescivendolo che poi lo dava alle comari, lo doveva dividere secondo le regole. Le teste degli storioni più grandi di un metro ai conservatori in Campidoglio e gli esemplari più belli andavano in dono ad un cardinale o ad un nobile oppure ad un personaggio importante a cui si doveva un favore, o si sperava di averlo. Oggi, non girano gli storioni, ma la storia funziona ancora così. Eh sì, ma, non finiva così il viaggio. I conservatori infatti difficilmente tenevano questa tassa per loro, questa testa di storione, ma la facevano girare, e quindi al cardinale di fiducia, il quale magari la regalava a qualche nobile che a sua volta la girava ad un banchiere. La mentalità è mentalità, non acqua. Comunque, immaginatevi sta testa di storione che si girava mezza Roma tramite il galoppino di turno, quanti galoppini abbiamo ancora oggi, se ne stanno tutti in politica, ah ah quando arrivava a destinazione puzzava che non ti dico. Diciamo che ai tempi, seguire una mazzetta non era poi così difficile, bastava annusare. L'ultimo a cui finiva sta testa, maleodorante ed inutilizzabile per essere cucinata, ne poteva venire un brodo da concorso, non si sentiva osteso ma anzi era orgoglioso di essere tenuto in considerazione, con tale gesto, significava essere inseriti nel giro. È proprio il caso di dirlo, per saperci fare, bisogna usare la testa.